Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale. È stata una giornata intensa a livello politico. Via libera dall'Aula della Camera, la fiducia posta dal Governo sulla legge di stabilità. Il testo passerà poi al Senato per il via libera definitivo. Facciamo il punto della situazione in questo servizio. Via libera dell'Aula della Camera, la fiducia posta dal Governo sulla legge di stabilità. Hanno votato sì in 350, no in 196 e un astenuto. Il testo passerà al Senato per il via definitivo lunedì prossimo alle 15. Domani invece la Camera voterà il disegno di legge di bilancio. Il Premier Enrico Letta non ha assistito al voto sulla fiducia perché è in trasferta a Bruxelles per il Consiglio dell'Unione Europea. Letta ha risposto alle critiche mosse al provvedimento dichiarando di assumersi le responsabilità di far scelte. Anche il Ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni stamattina ha difeso la manovra. La legge di stabilità come impostazione è rimasta sostanzialmente invariata. Per la prima volta fornisce risorse all'economia con investimenti e riduce tasse sul lavoro e famiglie. Su questo c'è un'inversione di tendenza rispetto alle finanziarie passate e rispetto agli impegni europei che un paese con un alto debito deve fare. Fondo taglia cuneo fiscale, pensioni rivalutate al 95% fino a quattro volte la minima, Web Tax in versione light, senza obbligo di partita IVA per l'e-commerce, sono alcune delle novità introdotte nel disegno di legge stabilità dalla Camera che, dopo il sì alla fiducia, si avvicina al via libera definitivo da parte del Senato. Nel testo licenziato da Montecitorio è stato così ufficializzato il Fondo per la riduzione del costo del lavoro che, a partire dal 2014, verrà alimentato con i risparmi derivanti dalla spending review e le maggiori entrate, rispetto a quanto previsto, frutto della lotta all'evasione fiscale. Un cuneo di fatto svuotato, i cui benefici verranno divisi al 50% tra imprese, compresi lavoratori autonomi e microaziende e lavoratori dipendenti. Arriviamo subito alla cronaca perché il serial killer Bartolomeo Gagliano, evaso mercoledì da Genova dopo un permesso premio, è stato catturato a Mentone, appena oltre il confine francese. Lo ha riferito oggi il ministro Anna Maria Cancellieri. Li hanno catturati entrambi, ha commentato il ministro riferendosi anche alla cattura avvenuta sempre oggi di Pietro Esposito, pentito di Camorra, che aveva abbandonato il carcere di Pescara ed è stato rintracciato poi a Forlì. Intanto si profila un trasferimento per il direttore del carcere di Genova, Marassi Salvatore Mazzeo, che sosteneva che per il carcere Gagliano era soltanto un rapinatore. Proseguiamo con la cronaca, ma andiamo agli esseri. Fortunatamente nessuno degli 88 feriti nel crollo della Polo Theatre a Londra si trova in pericolo di vita, anche se 7 sono considerati gravi. Il servizio. In un certo senso l'applauso finale può comunque partire, poiché dei numerosi feriti della Polo Theatre di Londra nessuno è in pericolo di vita. La paura tuttavia è stata molta e il timore del peggio elevatissimo. E' accaduto tutto ieri sera quando la balconata della Polo Theatre in Shaftesbury Avenue, nella quartiere di Soho, è collassata travolgendo numerosi spettatori rimasti a lungo intrappolati sotto le macerie. A innescare il crollo della balconata, affermano polizie e vigili del fuoco, sarebbe stato il cedimento di una porzione di soffitto, come conferma anche un testimone. Prima del crollo ha dichiarato Ho sentito nitidamente il rumore di qualcosa che si spezzava. In quel momento era in scena uno spettacolo a cui assistevano circa 720 spettatori, su una capienza massima di 796. Il primo bilancio stilato dal servizio ambulanze della Capitale parlava di 88 feriti, di cui 7 gravi. Ma la migliore notizia è proprio quella di Ramate in un secondo momento, per la quale nessuno sarebbe in pericolo di vita. Proseguiamo con gli esseri, perché il presidente russo Vladimir Putin ha firmato il decreto che concede la grazia al nemico di sempre, Mikhail Khodorkovsky. Vediamo. Il presidente russo Vladimir Putin deve essersi persuaso che sulle questioni dei diritti civili si gioca una carta importante sullo scacchiere internazionale e ha deciso di allentare un po' con la presa. La stoccata era arrivata qualche giorno fa con Barack Obama, che aveva mandato in rappresentanza degli Stati Uniti alle Olimpiadi di soci e atlete riconosciute come esponenti del mondo gay. Forse il messaggio più evidente di una diplomazia internazionale è sempre più un imbarazzo per il rigore di Putin, il quale, dopo le concessioni sulla questione Pussy Riot, ha firmato il decreto che concede la grazia a Mikhail Khodorkovsky, che sarà subito in vigore, come annunciato dal servizio stampa del Cremlino. Il presidente russo aveva annunciato a sorpresa il provvedimento per il nemico di vecchia data, ex proprietario dell'azienda petrolifera Yukos, finito in carcere dieci anni fa con l'accusa di evasione fiscale e frode. Mikhail Khodorkovsky, a causa delle sue ambizioni politiche, era diventato un personaggio scomodo per Putin durante i suoi primi anni di presidenza all'inizio dello scorso decennio. Apriamo la nostra pagina regionale, il ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato ha partecipato oggi a un convegno su lavoro e imprese per Expo 2015 a Milano e a margine con i cronisti ha poi toccato diversi argomenti di rilevanza nazionale. Sentiamo. Promuovere il paese e rilanciarlo per la crisi, il ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato spiega così l'impegno del governo per Expo 2015. Allora, sull'Expo noi stiamo lavorando in varie direzioni e sono tutte quante finalizzate a portare intanto l'industria agroalimentare italiana nel mondo mostrando quanto vale e quanto può ulteriormente affermarsi. L'altra attività consiste nel promuovere all'interno del paese tutta un'attività tendente a spiegare ai nostri produttori che hanno un'enorme possibilità all'estero di affermare i prodotti. Abbiamo attivato una linea che consente con una compartecipazione di investimenti di attivare tutta una serie di iniziative per promuovere i nostri prodotti italiani, parliamo sempre dell'agri-food all'estero e infine facciamo una forte battaglia perché si affermi la qualità del nostro prodotto originale perché il rischio è che l'imitazione, anzi il rischio è un fatto, l'imitazione produce enormi danni. Il ministro presente a Milano per un convegno su imprese ed Expo è tornato a parlare anche della situazione IMU e delle proteste dei sindaci. La questione IMU è semplicissima e funziona così, lo Stato aveva proposto il 4x1000 di IMU su una base rivalutata del 160%, conosco benissimo l'argomento perché ero sindaco. Alcuni comuni hanno tenuto il 4x1000, altri comuni hanno aumentato il 4x1000, noi siamo in grado di restituire in questo momento il 4x1000 e non l'aumento che alcuni comuni hanno fatto. E' una questione, evidentemente sono in imbarazzo i comuni che hanno deciso l'aumento, ma molti comuni però hanno tirato la cinghia per non determinare l'aumento. Voglio dire, sapendo che veniva restituito tutto, io del sindaco di Paolo portavo lo 0,8 e così mi portavo a casa una bella botta di milioni di euro. Quindi si tratta di ragionare attorno a una questione in cui c'è un aspetto 4 miliardi di euro che lo Stato dà ai comuni per non aver fatto pagare l'IMU prima a casa ai cittadini e quell'incremento che è una piccola cifra su cui bisogna in qualche modo trovare una soluzione. Figuriamoci se non saremo d'accordo di dare tutto il possibile ai comuni. Il problema è che i soldi sono pochi, non c'è cattiveria. Per Expo 2015, secondo la Camera di Commercio di Milano, saranno previsti in città 102 mila posti di lavoro. Se ne è parlato oggi in un convegno alla presenza anche di alcuni sindacati. 102 mila posti di lavoro in più solo a Milano e 11 mila nuove imprese in Italia. Sono alcuni numeri possibili per Expo 2015, annunciati oggi in un convegno alla Camera di Commercio di Milano sulle imprese e il lavoro dell'Esposizione Universale. Noi abbiamo fatto un'indagine con un team di professori universitari. Questa indagine ci dice che per quanto riguarda l'Expo nel periodo 2012 e 2020 gli effetti per quanto riguarda il lavoro saranno di qui a Milano di 102 mila unità di lavoro aggiuntive. Ma non è che questo però avviene automaticamente, bisogna conquistarlo, bisogna favorirlo incentivando le imprese che assumono. In particolare poi noi chiediamo al Governo dei vantaggi fiscali per le imprese che è terminata l'Expo decidono di mantenere tutti i lavoratori che hanno assunto durante il periodo. Presenti il Ministro Flavio Zanonato istituzioni locali e sindacati che chiedono a gran voce una cabina di regia dell'occupazione per Expo 2015. Dobbiamo costruire una cabina di regia che metta assieme tutte quelle che sono le professionalità di tutte le persone che lavorano dentro Expo. Ci saranno nome e cognomi di persone che hanno acquisito anche esperienze e capacità professionali. Devono stare in una banca dati, quindi in un elenco che deve essere reso disponibile. E poi speriamo che davvero Expo lasci opportunità nuove di lavoro perché molti di loro magari dovranno riqualificarsi, molti di loro potranno però trovare un'occupazione magari in imprese che sono nate nel frattempo. Oggi hanno dato qualche numero su qualche posto di lavoro sia la Camera di Commercio che Sala. Voi ci credete? Noi abbiamo una nostra ricerca che pensiamo sarà la ricerca e lo vedrete alla fine purtroppo, però vedo che piano piano tutti si stanno avvicinando ai nostri numeri, che era quella che cercava di tenere i piedi per terra e che in modo molto empirico con un sistema anche di rilevazione che era un sistema costruito intersecando una serie di dati, dava dei dati molto più bassi di quelli che escono oggi. Perché noi abbiamo calcolato un indotto molto più ridotto di quanto viene calcolato da altri istituti. Noi ci auguriamo che se ne possano creare il più possibile, ma davvero il più possibile. Ci interessa poco il balletto dei numeri, abbiamo dato anche noi i nostri, che sono un terzo di quelli che sentiamo dire in questi giorni. Però sarei felice di essere smentito perché vuol dire più lavoro e più occupazione. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione e arrivederci. Grazie.